Ciao a tutti, l'Italia, come tutti sappiamo, la nostra nazionale è passata con il primo posto del girone A di Euro 2020 a punteggio pieno, 9 punti per gli azzurri, 3 vittorie su 3, partite stratosferiche, bel gioco l'Italia di Roberto Macini è un'Italia dei record, 30 risultati consecutivi, insomma sta andando molto forte il ciclo iniziato dal tecnico Macini e la notizia è che agli ottavi ci sarà Italia-Austria, l'Italia prendeva la seconda del girone C l'Austria ha battuto l'Ucraina ed è diventata la seconda del girone, la prima è l'Olanda quindi la prossima partita in programma sabato 26 giugno a Wembley credo alle ore 21 sia Italia e Italia-Austria e quindi avversario comunque duro, una buona squadra, la formazione austriaca che ha giocato fin qui un ottimo girone quindi darà sicuramente il filo da torcere agli azzurri saranno tutte partite secche quindi bisogna vincere e bisogna iniziare a vincere da sabato per poter fare un lungo cammino a quest'Euro 2020